In Birmania e golpe. Con un annuncio sulla TV pubblica è stato proclamato lo stato d'emergenza per un anno. I militari riprendono il controllo totale e per Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace e leader di fatto del paese, si riaprono le porte del carcere. Insieme a lei sono detenuti numerosi altri esponenti del governo. Il generale Minswe da vice diventa presidente ad Interim. La situazione è precipitata dopo che da settimane l'esercito, cui la Costituzione garantisce una rappresentanza in Parlamento, contestava i risultati delle elezioni di novembre vinte dalla Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi. I militari sono entrati in azione nel giorno in cui i parlamentari dovevano riunirsi per la prima volta. I soldati controllano le strade, le comunicazioni via internet e telefono sono difficili. Stati Uniti e Australia hanno chiesto il rilascio di tutti i prigionieri e il rispetto di una transizione politica democratica. Aung San Suu Kyi è stata imprigionata dalla giunta militare dall'89 al 2010. Nel 2015 aveva vinto le prime elezioni libere dopo 25 anni e con il nuovo successo alle urne si preparava a governare per un altro quinquennio. In questi anni l'immagine internazionale della Nobel era stata appannata dal suo negazionismo nei confronti della persecuzione nel paese della minoranza musulmana dei Rohingya.